Tanti da poter fare un'orgia gay di Babbo Natale Se non sapete organizzarla ci pensa questo signore qui Non sapete chi è questo signore qui? Questo signore qui è un omofobo conservatore Portavoce di un partito omofobo e conservatore Che è stato arrestato in un'orgia gay Non è stato arrestato perché le orgie gay siano illegali Ma è stato arrestato perché aveva un sacco Come Babbo Natale, però pieno di droga Caro... no, siamo nel 2020 Senti, caro o cara Babbo o Mamma Natale Quest'anno mi sono comportato molto bene Non ho fatto un cazzo No, cazzo no, senza parolacce per favore Non ho fatto niente perché tanto non si poteva uscire Per colpa del virus di merda No, merda no Per colpa della crisi sanitaria Per questo, per favore, quando entri in casa mia Disinfettati bene le mani e gli scarponi E mettiti la mascherina, se no col cazzo che entri No, hai detto cazzo un'altra volta Se no con il membro riproduttivo maschile che entri Visto che in casa ci sono dei vecchi moribondi No, no, vecchi moribondi non va bene In casa ci sono delle persone anziane Anziane Che quest'anno hanno sofferto molto Doppio regalo per loro Però non esagerare Se no gli elfi fanno sciopero E rimango io senza regalo Come ti stavo raccontando poco fa Quest'anno sono stato bravo Non ho mandato affanculo nessuno Però so che tu sai che sto mentendo E quindi lo riscrivo Non ho discusso con nessuno E soprattutto perché non mi avvicino a nessuno Da quasi un anno intero Perché tutto il mondo fa cacare No Perché dobbiamo mantenere la distanza da tutti Quindi se devo mantenere la distanza perfino dalla mia famiglia Figuriamoci se mi avvicino a qualche sudicio sconosciuto A qualche simpaticissimo sconosciuto Però adesso la cosa più importante Quest'anno non ti chiederò la pace del mondo O il medio ambiente Per questo ho scritto una letterina anche a Greta Thunber Thunber L'unico che desidero quest'anno È che tutti si iscrivano al canale del mio amico Drine No questo è da paraculo Eh? È parasedere Allora vorrei una pipa di acqua BHO Secret Smoke Se non sai cos'è Vattela a cercare su Google Grazie Io al prossimo anno PS Porta Rudolf dal veterinario Perché quel naso rosso non è normale Il Drine Allora ragazzi Vi è piaciuta la letterina Che ha fatto Mini Drine Che Mini Drine è anche il soprannome Che le do al mio pene Però Ha fatto una letterina Molto 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 bella Interessante Quindi adesso Non ci resta che Chiudere la letterina Metterla Nella busta Un sacco di brillantini A Babbo Natale li piacciono Casca brillantini Come se non ci fosse un domale Io penso che dopo devo anche pulire Però Ok Ok La lettera Per Babbo Natale Polo Norte Se la diamo A Il nostro amico Gilberto Che la porterà Da Babbo Natale Adesso il momento più importante del video Il momento Bob la Spugna Quindi oggi è Il numero 4 Qui Esattamente qui Tanto sto sicuro Che anche oggi Non ci entrerà assolutamente Un cazzo Spugno Forse no è quadrato Forse è spugno È un regalino Oggi cioccolatino Cioccolata Latte E brillantini Con le mani piene ragazzi Non si vede però Le mani piene e brillantini Ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un like a questo video Noi ci vediamo domani Con il video numero 5 Di questa Serie Natalizia Grazie a tutti